del egocentrismo comunque guarda come aiuto i cittadini miserabili vieni a vedere Reggio c'è 50 centi insieme a Shigo e Kim Possible ma quella è Tom Ryder non è Kim Possible eh ho scritto Kim e è uscita lei va bene così bella Shigo io ho messo un cannocchiale perché è l'unica cosa fallica che avevo in mente se ti piace il video ti piace il video link in dettaglio in blu guarda il numero la mia pallina è caduta sul suo tetto mi servirà mi servirà questa la lasciamo qui davanti all'entrata signor Buso per caso lei ha delle piume ne ho 7 tipo questa potrebbe darmele per favore voglio un bacino arrivo ho capito ragazzi cosa io ne aggiungerei altri 10 che si sta un po' sovraccaricando scusi lei chi è? 10 come il capitano il conte il conte è per caso quello che ha attaccato il volantino nel mio palazzo senza un permesso rip capitano il pupone rimborso assolutamente si lo sa che è illegale è pubblicità ingannevole per caso ha delle piume come questa non è pubblicità ingannevole è pubblicità falsata lei ha pagato per mettere quel cartellone? assolutamente si no perché il proprietario sono io e non mi è arrivato nessun tipo di pagamento quel palazzo è talmente schifoso che l'ho abbellito perfetto vado a dar fuoco a quel cazzo di volantino no ma quel volantino serve per far votare il conte il conte deve andare a fanculo come faccio a farlo bruciare? avrei bisogno di una bomba potrei usare una io so che non è una scelta giusta questa cosa che sto per fare io so che non è una scelta giusta ragazzi perfetto mi è venuta in mente lei mi scusi non signor non perdiamo tempo guarda che è una volontà sua la signorina ma arrivo subito non la smette di fare casino ci farò esplodere il pasqualone vanno bene si smettano le esplozioni un diamante per 20 più me ma l'hai detto tu due diamanti per 20 più me non so per sapere se me lo prendevi te ne vendo per due diamanti tre diamanti ho già detto tre diamanti brava non scendiamo su tutti i tre non l'hai mai visto una sirene due e un lunda no no perché le serve lo so ma credo che le serve una stack di oro non servono le gambe non servono le gambe una stack di oro brilla come i suoi occhi vabbè io accetterei guardi con l'oro non ci faccio niente se non comprare questo comprare statue comprare le state beh una stack di oro è una statua comprare e poi l'ho fatto anche un complimento vero beh complimenti ma lo sai che ieri ho sconfitto lo scarabèo ho vinto questo che cos'è stear shard si ed è in vendita no dov'è quella creatura scheletrica allora ho portato due diamanti ecco qua oh perfetto cosa volevo fare con l'oro ah quindi l'ho comprato io vabbè grazie la ringrazio tantissimo io non ho capito vado a fare i macchinari che servono arrivo subito certo sergente vieni perfetto grazie mille arrivederci prego arrivederci ma che fino ha fatto totti è sparito è esploso ma era stato scusami l'abbiamo pagata vabbè è oro comunque abbiamo due diamanti in più dai teschere teschere no togli sta merda togli sta merda oh mio dio non ce la fa ok posso possiamo togliere tutto adesso allora Vic dobbiamo fare una roba molto importante importantissima super importante farm di cactus fernaciti si facciamola ho messo io questo questo lo posso togliere hai fatto no si hai fatto cosa c'era dentro della carne dell'immagine perfetto ma dove potremmo farla allora dove che sei qua la vogliamo fare qui aperta aperta a chiunque oppure possiamo fare un buco e farla qui sotto con una botola per quello dicevo tipo qua sotto però poi non aspetta gli lanci una magia ce l'hanno loro tenuti lontano ok pensavo o qui sotto però se vogliamo che rimanga nascosto dobbiamo fare in maniera tale che si chiuda ogni volta dovremmo spaccare il blocco sotto ho buri con una botola si ma il problema è che forse se ne accorgono con la botola vabbè vado a prenderla intanto ah c'è già una stanza qui si si porco ops yo ops yo ops yo scub ops allora non mi si fa bloccare il flusso d'acqua ora sono una bestia sei sotto cavolo devo prenderle in palcature ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ci può stare sicuramente la farm no di caccio deve essere beh volendo sì quanto deve essere alto aspetta ma ti abbasso un altro un altro coppettino che ne dici se facciamo che scappiamo dentro la casa di berro e diamo un'occhiata andiamo ficcandiamo di nascosto aspetta com'è che si faceva a cambiare la skin eh non lo so di preciso ho fatto qualcosa non so cosa lo sei che ho fatto ho cliccato quel skin skin set ok ho aggiustato ok aspetta oh che figo però ti devi togliere tutto basta che nascondo sì come faccio a farlo io perché si riconosce slash skin skin set mojang e poi scrivi spazio ninja ok si vedi ok posto andiamo andiamo non dire niente abbiamo gli zaini però eh eh vabbè faccio così aspetta parliamo in gioco così di più senza più senza ok 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 vieni 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 andiamo dentro dentro ok dove dove cosa fai che stefa edgy dobbia puoi filare dentro ok oh devi alzarlo tiralo su tiralo su tiralo su non mi lasciare qua aspetta ecco ecco guarda ok via ok guarda guarda ok un blocco di sabbia uno di cactus si riscono camuffa la voce mi raccomando eh dove li manda però dentro ok guarda dentro qua e poi c'è una cesta c'è una caca sì e poi la cucina dove eh non lo so ah di qua guarda fa vedere fa vedere beh c'è qualcosa qua mettila mettila ok credo ci sia nient'altro no 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 ok allora tocca fare così mi raccomando c'è qualcun altro che credo abbia una farm sinde mi sa che c'è la cianco sì andiamo a cercarla andiamo finì sei proprio ninja di me non capisce niente di quello che dici andiamo andiamo ok 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 aspetta 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 se ci dovessero sgamare io non parlo e mi riconosce dalla voce ok ok togli la zaino togli la zaino ok stufi anche questo ok andiamo vieni 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 non c'ha visti possiamo andare non c'ha visto non c'ha visto ok andiamo alto bene c'è una persona davanti cazzo sta facendo il giro siamo nel tempio c'è nessuno in giro c'è c'è nessuno c'è nessuno no non mi sembra che ci sia nessuno niente piano piano oh che avevo detto di spegnere il telefono vieni tu il telefono io lo spendo il mio e io ho messo la modalità silenziosa impossibile e che cazzo però andiamo andiamo ma chi è Chip Chip è morto il 10 novembre quasi un mese fa ma ne ha ucciso l'altro oddio ma questo ma quanti ne ha uccisi nel cimitero dei cavalli mi sembra ma come magari ammazza vieni 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 oddio guarda là non votatelo occhio alla truffa ok ok andiamo che sarà dove sarà vieni 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 oddio c'è il guardiano cazzo il buco sali 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 non spingere tutti quei panini che hai mangiato devo cagare girati dall'altro lato girati dall'altro lato non riesco a salire dai un avanti girati dall'altro lato fai il giro della corda che fai di qua di qua devi passare dalla parte più grossa quale parte più grossa questa è la padale vai su vai su brava ok riesco riesco c'è un balcone ma non credo sia sopra vieni giù vieni giù guarda come si guarda come si muove la lanterna hai visto vieni giù vieni giù fai il ninja fatto bene ma no ma è di qua camuffa la voce fai un accento strano aspetta che riesco a parlare lituano ok ok seguimi vieni vieni quando urlo vuol dire che ok facciamo una prova vieni su vai e devo urlare più forte ok ok devo urlare più forte ok 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 brava brava vieni andiamo ok inutile andiamo non è di qua mi sa e dov'è dobbiamo trovare questa meredetta vieni sopra vieni sopra vieni sopra vieni sopra sono intollerante all'edera no e quando sono qua 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 sono di qua siamo in cima e quindi non c'è un cazzo cosa c'è dentro abbiamo un po' di cazzate varie cosa potrebbe nascondere oh mi mette i cavalli forse ok no aspetta guardiamo guarda che c'è qualcuno ossicino mi sa che dobbiamo buttarci non abbiamo altra scelta dobbiamo buttarci giù dobbiamo buttarci giù abbiamo studiato a posto vai vai non ho avuto paura ok hai visto cazzo una maledetta cazzo una maledetta oh a terra a terra mezzo di cavalli cazzo terra nascosta da faro che cosa cazzo di padre del mio terreno matalo 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 che cosa dimmi chi sei dimmi chi sei chi sei dove matte mettervi una schiena Un vero ninja continua ad andare avanti Non posso rimanere indietro con le persone più bisognose Il giorno 8 La strada sembra lunga Cos'è quella merda di pietra lì? Perché hai spawnato un coso pietroso merdoso di là? Esatto, non capisco quel coso Signore, signore, signore Ho visto un ninja, un uomo pericoloso vicino alle stalle Un uomo pericoloso vicino alle stalle Un po' sorpetta questa sua magna di strisciare per terra Guardi, è lì, è lì, è lì, lo vedo, lo vedo Dove sta? Sta lì vicino alle stalle, non lo vedete? Ah, è un cavallo Dovremmo esserci Grazie mille, a rivederci Ti figuri? Vic, Vic, ciao Ciao, muso Aspetta, devo riprendere la mia roba No, ti hanno ucciso Perché ti hanno ucciso, Vic? No, no, mi sono ammazzata da sola Sono affogata qua dentro per non farmi scoprire Cazzo Mi avevano circondata, muso Io ho fatto un tunnel sotterraneo Eh? Vieni, vieni, vieni Hai trovato qualcosa? Non sei riuscito a fuggire, io no Dentro Esatto Vai dentro Sesto posto È un buco Sì, ma per cosa? Che collega fino a casa di Cianco Capito? Fino là giù in fondo, collega Sì, sì Che fai, ho? Metti caldiferi Metti Ci sono Che cosa? No, niente Come si fa a cambiare nome? Il problema è che io non posso parlare, maledizione Ci sei? Sì, mi sono cambiato nome Ho un problema Allora, io non posso travestirmi da ninja Perché? Perché non ho modo di... Per finta di niente, capito? Quindi al massimo ti posso far da palo Ho cambiato nome Mi sono chiamato Salume Ok, andiamo Andiamo Però stanno girando il conte Conte Con il maresciallo Con il sergente Qualcazzocino Fai la voce da uomo Non riesco Provaci Cazzo faccio, non sono capace Non riesco, non mi viene naturale Prova, prova a parlare in brecino Un pochettino da maschio Vedete che porca puttana Cosa figa faccio? Più Io non... Più, più uomo, più uomo Non riesco Le mie corde vocali non sono in grado Caputtare Porca puttana, avessi acceso il walkie-talkie Quanto è che finisco sti tunnel? Salta, salta Oh, yeah Adesso non è molto sosp... Quindi ho esplosso qualcosa No, no, sono stato io Vai, vai Attento No, non è andare, non è andare Non bussano, ospitano Vai avanti, vai avanti Che fa cazzetto? Corri, corri Vai, vai Oh, lo senti? Oh, come? Come? Vai, vai, vai Io faccio finta di niente, aspetta Allora, c'è una porta qui, siamo letteralmente dritto per dritto all'emporio Che state facendo? Che succede qui? Assolutamente niente qui Non è un posto per cittadini stupidi come lei Ah, grazie No, mi scusi Io sono libero di girare a dare dove voglio Assolutamente vero Eh, la sta mettendo nel mio giardino Quindi me la posso riprendere Sì, assolutamente Signora, Jess Eeeh, sergenti Se può passarmi La soul sand Sì, sì La soul sand Quanto è nel ferro 20? 30 Portire, portire Via, via, via Sono troppo sospettosi Regà Non risabate adesso Perché Non riesco a sentar bene l'audio E quindi tutte le vostre sub Donation Beat Le sentono anche gli altri Capito? E quindi Shhh Fin qui va tutto bene Dobbiamo capire Dove è la fornace di Gianco Vic Tornavo a casa Mi hai fatto il mio rinfarto Vieni a casa Arrivo, arrivo Vi stavo con delle enderperle Salve Chi è lei? Scusi Non Salve Cosa fa qua? Mi sta mettendo un po' di paura Signore Salmo Cosa fa lei? Cos'è che vuole? Mi dica cosa Cosa le serve? Cosa Cosa vuole fare? La vuole? Ah Vuole queste? Ah Mi segua Forse ce ne ho un po' Com'è che si chiama lei? Mi segua Lei è molto strano Mi sta mettendo un po' di ansia Vuole vedersi un film? Venga No No Si prenda le perle E non faccia niente al mio piccolino Prego prego Se le serve qualcos'altro Mi trova qua Oh povera piccola Si fermi Non faccio del male agli animali Poveri animali Sono qua che pascolano Vanno partita Venga qua Venga qua Ne avevo detto di non uccidere Gli animali Non si fa Maledetto Se ne vada da qua Se no Se no Sparirà No Questa qua Oh porca traia Aiuto aiuto Succede Succede Aiuto aiuto Ok Allora Dove cazzo è la farma? Dove 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 Tocca che vediamo nelle pozze Ancora Quattro per quattro E poi va di sotto Ok 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 Ancora 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 Ancora